Non lo so, questo diciamo che lo decideremo nei prossimi giorni, però mi sembra che il segretario abbia già indicato un metodo di lavoro, ha già detto che sicuramente ci saranno incontri del gruppo del PD, la direzione è convocata in via continuativa, quindi quando sarà necessario ci vedremo e poi la delegazione del PD incontrerà gli altri partiti, quindi comincieremo dalla prossima settimana un lavoro sui nomi.